un saluto agli ascoltatori ben trovati per questo appuntamento con il nostro spazio interviste continua anche il nostro lungo viaggio che stiamo facendo dedicato alla magia del tango una magia che ormai da un anno e mezzo ci sta tenendo piacevolmente compagnia attraverso i nostri contributi attraverso le nostre interviste e oggi siamo ospiti di una appassionatissima di tango Ticei ma che il tango ce l'ha davvero nelle vene da moltissimi anni è così Bruna Mandolino? è così è così tango ce l'ho delle vene dal 96 praticamente 97 ecco quindi diciamo che la prima di tutto come tanghera e poi ecco la mia attività principale quella di insegnante di tango però come appassionata di tango naturalmente nel tempo si cerca non ci si accontenta più solo di una parte no? per cui piano piano ecco tanta della mia attività ruota comunque intorno al tango il tango ne ispira tanta altra per cui certamente in parte anche la musica ma soprattutto video o sperimentazioni di altro genere sperimentazioni sul cambio ruolo diciamo è tutto un work in progress perché il tango è molto ricco quindi si può a questa fantastica cosa il tango che si può smettere di impararlo mai praticamente e quindi si può indagare perennemente e quindi questo innanzitutto Bruna ti ringrazio davvero di cuore per essere nostra ospite con noi nel nostro telegiornale cosa è per te il tango? allora prima di tutto è gioia e comunicazione e abbraccio e respiro piacere globale e questo diciamo è già qualcosa e poi indubbiamente il tango ha anche una dimensione che per un certo periodo della vita mi ha portato anche a distaccarmene che è la capacità di attirarti dentro una specie di tunnel e quindi normalmente diciamo proprio grazie a questa possibilità di essere scandagliato praticamente all'infinito ci si può ritrovare quasi anche un po' di sconnessi dalla realtà quindi questa era stata la cosa che in certo periodo qualche anno fa mi ha portato a prendere un pochino di distanze ma è durato quel che è durato perché comunque è stato necessario ritornare magari con più consapevolezza, con più voglia di abbracciarne veramente tutti gli aspetti quanto ti manca l'abbraccio? oh tantissimo, tantissimo per questo che un anno fa se mi permetti di parlare così a ruota libera uno degli esperimenti più impegnativi ma veramente felici che ho fatto con l'attività diciamo di videomaker che è stata se vogliamo un'attività che ha iniziato a fiorire soprattutto in questo periodo del lockdown perché non potendo agire diversamente lì diciamo è stato necessario rivolgersi ad altre risorse allora un anno e passa fa pur essendo passati molti video da allora mi piace parlare di nuovo del tango della resilienza che è stato uno strano esperimento fatto con chiunque l'abbia raccolto online una specie di flash mob io ho creato una bozza di una coreografia che ho montato nei due ruoli in abbraccio con me stesso perché solo me avevo e quindi c'era questa cosa già anche un po' strana da vedere e ho lanciato questa proposta per chiunque lo desiderasse di creare eravamo nel lockdown quello per chiunque lo desiderava di ma tangheri non ballerini professionisti di creare una coreografia di gruppo sulla base di quella coreografia e poi tutto il resto è stato un lavoro di montaggio ma è stato bellissimo è stato un abbraccio un abbraccio simbolico che le persone che mi hanno risposto da tutta Italia mi hanno fatto un regalo fantastico io mi ricordo quando mi arrivavano i primi video registrati in casa da queste persone che non conoscevo vestite di tutto punto, truccate, eccetera che ballavano quello su cui poi abbiamo un po' rimesso mano un po' no e soprattutto sì poi molto montarlo dopo ciascuno con alle spalle la propria stanza da lei però vestiti, truccati, serissimi, concentrati è stata un'emozione incredibile è stato un fenomeno di partecipazione che mi resta ancora oggi profondamente nel cuore bellissimo ed è stato un abbraccio senza l'abbraccio quindi il video iniziava con ciascuna di queste persone perché ciascuno ha ballato da solo dietro la finestra dovete pensare a una palazzina per chi non l'ha visto con tante finestre diverse e dietro a ogni finestra si vedeva uno di loro per poi invece riunirsi su un palcoscenico virtuale certo permetti una mirada? oh sì contatto di cabeseo speriamo presto di ballare insieme Bruna ma certo ma ormai presto certo ovviamente senti Bruna mi posso permettere di chiederti questo anno e mezzo come l'hai trascorso? sì allora questo anno e mezzo come ti dicevo è stato un po' un attingere a risorse alternative chiaramente diciamo che per me abbracciare completamente diciamo il tango come mestiere come vita è stato un percorso che graduale negli anni è una grande conquista è chiaro che trovandomi totalmente sprovvista di questa conquista come tutti non solo col tango ma insomma in tante altre cose però diciamo la verità che lo spettacolo in generale i balli di coppia in particolare sono stati particolarmente penalizzati quindi diciamo che tutta questa carica sia di passione ma di creatività di bisogno creativo non dico neanche di creatività però di bisogno da parte mia ha cercato vie diverse e quindi nella scrittura di racconti e quindi appunto in questa attività di creazione di video fondamentalmente quasi sempre volto a raccontare una specie di solitudine un pochino trasognata però però con questo fondo che comunque c'era a progettare a creare non è stato neanche male devo dire perché per certi versi la prima fase devo dire la verità la prima fase è stata molto piacevole quasi perché era come un tempo sospeso un tempo dove sei autorizzato a non produrre niente cioè non ti devi affannare sei estremamente libero perché è la vita che ti sta dicendo molto e devi fermare quindi questo in tempi recenti molto più difficile in tutta onestà nel senso che comincia veramente a mancarci cominciamo a non sapere che cosa accadrà diciamo soprattutto per chi di questo di questo ha fatto una professione e non solo un hobby però comunque di una passione ha fatto una professione che cosa accadrà dove sono finite le persone si sono date all'equitazione che cosa hanno fatto cioè senti Bruna tu in parte mi hai già dato una risposta a una domanda che avevo in mente di parte ma comunque te la faccio e ti chiedo questo potrebbe davvero essere secondo te l'anno del ritorno del tango? sì sì però non sarà un ritorno in pompa magna io credo che ci sarà una gradualità sì adesso comincio a sentirmi un po' più ottimista però però non credo che sarà un ritorno proprio con le fanfare ecco bisognerà avere la pazienza di aspettare che le persone si sentano rassicurate la gente ha voglia di nuovo di incontrarsi chi già non lo sta facendo perché ha deciso comunque di farlo però la gente ha voglia di incontrarsi qualcuno ha già stabilito che adesso basta bisogna abbracciarsi e però tanti hanno proprio dovuto per un po' seppellire questa anche proprio la libido legata al tango e in qualche modo quando questo succede non sai veramente cosa accadrà quindi diciamo che adesso stiamo guardando un po' tutti con speranza questo periodo che si preannuncia è un po' meno catastrofico però però non sappiamo anche con una certa trepidazione diciamo però è stato un anno in cui ho ripreso ecco per esempio io venivo dal teatro teatro ho avuto tanti pezzi di vita mia vita è un po' composta e ho ripreso anche quello insomma diciamo che ecco non abbiamo lasciato indietro niente a parte il tango un'ultima considerazione insieme a te prima di concludere questa piacevolissima chiacchierata e anche se mi permetti di dirlo i tuoi occhi valgono più delle parole che ci stai dicendo ah grazie e quindi un'altra considerazione secondo te quanto l'educazione nel tango conta sia in milonga che nello studiarlo allora il tango ha già lui una ho visto in diverse occasioni una capacità di ingentilire le persone che ci si dedicano ovviamente è anche vero che probabilmente le persone che ne sono attratte hanno già una loro però però diciamo che sicuramente è uno strumento capace di nobilitare decisamente perché comunque devi preoccuparti sia dell'altro estremamente prossimo cioè la persona che è in abbraccio sia di tutte le persone intorno è veramente è veramente molto sociale è direi corale quindi diciamo che tutto quello che è un po' brutale un po' alla Carlona non c'è non fa molto parte del tango e allora incrociamo le dita speriamo davvero che si possa tornare gradualmente a riannamorarci di questa danza meravigliosa come tutti quanti noi ci auguriamo una grazie davvero di qua per essere stata con noi ok grazie grazie a te grazie